Buonasera mister, la partita con il Benevento tra le richieste della procura e l'esito definitivo del processo che la riguarda? Io penso solo al Benevento, i miei avvocati hanno fatto ampiamente chiarezza su quello che è il mio operato, il mio discorso e quindi ho massima fiducia ai miei avvocati, proprio grande fiducia come ce l'ho in quello che è la giustizia sportiva aspetteremo con la giusta ansia, con la giusta preoccupazione perché è normale che ci sia un po' di ansia a riguardo però nello stesso tempo ho grande forza perché ho, e questo lo dico proprio col cuore in mano, una città al mio fianco e questo per me è una forza stratosferica, quindi io pubblicamente voglio ringraziare non il tifoso perché magari quello è, però ogni singolo cittadino perché mi sono arrivati una marea di messaggi di solidarietà che credono in quello che è la mia onestà, quindi questo mi riempie di orgoglio perché quando ad agosto ho bussato porta a porta per poter far sì che questo sogno per Messina continuasse, questo mi ripaga di tutti i sacrifici fatti in passato. Tanti dubbi nella formazione di Dolare? È chiaro che qualche ragazza sta bene, qualche ragazza l'abbiamo perso per infortunio ancora ma credo che questa squadra abbia dimostrato ampie garanzie per arrivare alla salvezza perché il nostro obiettivo è quello che poi dopo, una volta raggiunta, possiamo agambire a qualcosa di diverso questo lo dirà poi dopo il campo ma noi, e credo che adesso ci sia la condizione da parte di tutti non dobbiamo guardare oltre al nostro naso perché se no andiamo incontro a grosse difficoltà. Oggi abbiamo Benevento, una partita diversa da come quello del Martina perché ha obiettivi diversi, ha giocatori di qualità, di una categoria superiore senza nulla togliere naturalmente ai giocatori del Martina ma la carta parla chiaro, quindi è una partita molto più complicata e difficile però il Benevento sa che troverà una squadra di fronte che vende a raccare la pelle. L'abbiamo preparata bene e quindi siamo sicuri di poter dare un giusto contributo ancora a fermare la nostra classifica quindi ottenendo il massimo, tre punti, un punto, zero, non lo so ma è la prestazione che ci dà poi continuità e conforto per il futuro. Tavare, sei pronto a partire di dolare? Diogo è un po' che si allena con noi ed è giusto anche dare a lui le giuste responsabilità cosa che magari non si può dare a Salvemini che è un ragazzo del 96 che l'anno scorso giocava nei settori giovanini però credo che Diogo abbia la caratura, il carattere, la forza, soprattutto le qualità per poter essere un leader di questa squadra. Adesso sta bene, quindi quei dubbi fisici, fortunatamente ringraziando il Dio, ce li ha tolti quindi è un ragazzo che ha qualità, nessuno l'ha messo in discussione, non voglio ritornarci quindi spero che possa essere per lui una nuova stagione e un nuovo percorso. Importa possibile conferma di Addario? Dipende da Berardi, io l'ho detto prima, quando ho preso questi giocatori Berardi era il mio tetelare e Addario il sostituto io però credo che questo ragazzo Addario abbia dimostrato ampiamente, al di là di tutto che qualcuno può pensare questo ha dimostrato che in questa categoria ci può stare benissimo quindi io ho preso un giocatore che in caso di infortunio, di squalifica di Berardi lui potesse dare a me, ma credo anche alla squadra, le giuste garanzie quindi se Berardi sta bene inizia lui, se no sono sereno e gioca a Berardi e gioca a Addario. Tatticamente che tipo di partita si aspetta domani? Noi abbiamo preparato la partita su quelle che sono le qualità del benimento, sono tante però credo che anche il benimento sa che incontrerà un Messina che vende la cara alla pelle quindi abbiamo dato le giuste indicazioni, io credo che questa squadra possa dare ancora soddisfazione e continuità alla partita vinta col Martina. Grazie mister.